La pesante crisi economica che dal 2009 ha portato indietro il lancetto dell'orologio dell'economia e dell'occupazione italiana di decenni ha trasformato anche il modo in cui domanda e offerta si incontrano. Annunci online, aziende interinali, mediatori e la rete aiutano molto, ma a volte i metodi tradizionali riservano delle piacevoli sorprese. Centro per l'impiego e carta stampata a frequentarli e consultarli ci dicono che nella nostra provincia ci sono 17 posizioni lavorative da coprire per 10 aziende che vogliono inserire queste persone nel loro organico. Il Conservatorio Rossini di Pesaro cerca un coadiutore a tempo determinato, un addetto di telemarketing con esperienza per un call center a Pesaro, mentre a Fano serve un ingegnere elettronico e delle telecomunicazioni anche con breve esperienza lavorativa. Per l'entroterra di Mondolfo serve un impiegato commerciale per l'ufficio estero con ottima conoscenza di inglese e francese. Un laureato per controllo qualità con esperienza serve su Pesaro e che conosca la normativa ISO 9001. Due ingegneri meccanici gestionali invece anche con breve esperienza per un ufficio tecnico di Pesaro sarebbero assunti. A Urbino invece cercano due saldatori con esperienza di disegno tecnico e che servono a un'azienda artigiana. Opportunità anche per due neolaureati ad indirizzo meccanico per controllo numerico in un'officina peserese, mentre uno studio odontoiatrico assumerebbe un assistente di poltrona con esperienza e buone possibilità di inserimento diretto. La zona di lavoro è Pesaro. Un pizzaiolo serve nella zona di Torrette di Fano ed infine ben cinque addetti al montaggio meccanico possono essere inseriti in un'azienda pesarese con esperienza nella lettura del disegno meccanico.